Ci ha portato via i grattevinci, sigarette, incasso e tutto quello che potevano insomma. 20.000 euro e la stima del furto avvenuto stanotte verso le due ai danni dell'Osteria Montello. Un ladro solitario, con il volto travisato, forse con l'appoggio di un complice a fare da palo, è riuscito a forzare la finestra del locale. Purtroppo queste persone entrano e non hanno paura di niente, purtroppo la legge sanno che glielo permette e lo possono fare. Ad immortalare il malvivente le telecamere del locale, le cui immagini sono ora oggetto dell'indagine dei carabinieri. L'amarezza per la titolare l'ha verso speso da solo due settimane il controllo dell'esercizio commerciale con una società di vigilanza privata. Abbiamo sempre avuto i controlli e tutto, sinceramente abbiamo disdetto da poco i controlli e non so se è una coincidenza. Il sospetto le viene. Esatto. Ma il bilancio dei furti questa notte a Bavaria di Nervesa poteva essere ben peggiore. Via Genio Zappatori è stato oggetto di un vero e proprio tentativo di razzia da parte del delinquente. Numerosi tentativi di scasso e danni di altri negozi prima di riuscire a penetrare i locali dell'osteria. Ho sentito dai carabinieri che hanno constatato che hanno fatto visita anche da me. Sicuramente noi cittadini possiamo fare ben poco, solo sollecitare forza dell'ordine. A prevalere tra i residenti sembra essere un sentimento di amare ironia e rassegnazione. Ma che era segnato? La normalità in Italia, dappertutto, cosa vuole che sia? Se uno ha qualcosa, qualcun altro viene a rubargliela. Molti sono però a suggerire una proposta concreta. Altre telecamere in piazza sì, su tutta l'area andrebbe bene, perché sennò noi non siamo protetti.